La necessità di ridurre i costi della politica e dell'apparato burocratico si scontra con la realtà di un Molise dove la pubblica amministrazione è un vero e proprio serbatoio di voti e privilegi. In Molise sono sempre più numerosi gli anziani costretti a vivere da soli per scongiurare il rischio e marginazione nella terza età, l'anteass è al lavoro con servizi di supporto. Ancora pochi giorni a disposizione per visitare la Fondazione Molise Cultura a Campobasso, la mostra Il Segno e il Colore del pittore molisano Amedeo Trivisonno. Nuovo importante riconoscimento per gli studenti del Liceo Dovidio di Laurino, autori di un cortometraggio realizzato con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Gentili telespettatori, ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Buon santo Stefano e buone feste a tutti. Iniziamo il nostro telegiornale con la politica. Il Molise è tra le regioni in Italia che è il maggior numero di dipendenti pubblici in rapporto al numero degli abitanti. In aumento i costi legati alle consulenze esterne e in particolare nella sanità e nell'assistenza tecnica ai programmi europei. Uno scenario in cui a dominare sono gli sprechi e l'inefficienza. Vediamo. Una regione che non esiste se non per la enorme quantità di dipendenti pubblici e consulenti esterni che pesano sulle già disastrate casse del bilancio. E' questa la sintesi del giudizio che la sezione di controllo della Corte dei Conti ha espresso sul rendiconto 2017, approvato dalla ex giunta Frattura e confermato dalla giunta Toma. Un rendiconto che, seppur passato al vaglio dei magistrati contabili, conferma le contraddizioni storiche che caratterizzano una terra dominata da logiche clientelari e da un parassitismo diffuso che vive a spese dei poveri contribuenti. Il Molise è una terra fondata sulle caste, termine che tradizionalmente identifica chi vive grazie alla politica, ma c'è una casta ancora più potente e radicata, quella dei burocrati che affollano i numerosi enti uffici della regione. Con ben 555 dipendenti, il Molise si posiziona tra le regioni che hanno la percentuale più alta di personale, il rapporto al numero di abitanti, un rapporto che pare al 3,22%, dato ben al di sopra della media nazionale. Nonostante un tale mastodontico apparato, il Molise è tra le regioni più inefficienti in termini di funzionamento dei servizi. Nella parte più alta della piramide si posizionano i burocrati, i cosiddetti colletti bianchi, dirigenti e direttori generali degli enti con retribuzioni e poteri tali da renderli praticamente intoccabili. Basti pensare che in soli tre anni le loro retribuzioni medie sono cresciute addirittura del 75%. C'è poi un altro capitolo che contribuisce ad aumentare i costi della macchina amministrativa, quello delle consulenze e delle società partecipate, che servono a ingrossare le fila dei portatori dei voti di politici. Le consulenze rappresentano l'espediente utile ad aggirare i vincoli imposti dal blocco delle assunzioni e delle procedure e tempi di selezione del personale. Sono diffuse in modo particolare nella sanità e nell'assistenza tecnica ai fondi europei. L'ultimo caso che ha fatto discutere è stato quello legato alla stipula di 22 contratti da 1.600 euro ognuno, con altrettante figure, per lo più vicine alla maggioranza di centrodestra, assunte grazie a una gara d'appalto del valore di 1.600.000 euro per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica al Port Feser FSE 2014-2020, gara vinta da un raggruppamento di imprese costituito da Consedin S.P.A. Ernest Young, che dal 1987 si occupa di consulenze in politica del lavoro, formazione e consulenza informatica e gestione dei fondi pubblici per la pubblica amministrazione. Da ultimo le partecipate, il grande serbatoio di voti della politica. Attualmente sono 18 quelle detenute direttamente o indirettamente dalla regione, con oltre 300 dipendenti. Tra queste è possibile leggere nomi fantasiosi, come Autostrade del Molise S.P.A., attualmente posta in liquidazione. In definitiva da ciò emerge un quadro allarmante, che contribuisce a rendere sempre più accentuata l'esposizione debitoria di una regione dove, con il cambio dei governi, i metodi di gestione del potere restano sempre gli stessi. Passiamo ora alla cronaca. Una folla commossa si è stretta intorno ai familiari di Antonio Iacovino, il 68enne che alla vigilia di Natale è stato vittima di un incidente stradale che si è verificato in contrada Piane di Larino in direzione Termoli. I funerali si sono svolti questa mattina nella Chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie. Contrariamente a quanto si era ipotizzato in un primo momento, il magistrato competente della Procura Frentana non ha ritenuto necessario effettuare l'autopsia sul corpo dell'uomo. Le altre tre persone ferite nell'incidente sono state dimesse ieri. I carabinieri della compagnia di Benafro hanno identificato e denunciato un trentenne del posto che in evidente stato di ebbrezza alcolica ha dapprima inveito contro alcuni cittadini presenti all'interno di un locale pubblico e successivamente all'arrivo dei militari si è scagliato contro di loro colpendo un agente con una testata in fronte. L'uomo in preda ha un evidente stato confusionale, in forte agitazione è stato trasportato all'ospedale di Sernia e dovrà ora rispondere dei reati di minaccia e resistenza al pubblico ufficiale. Anche in Molise sono sempre più numerosi purtroppo gli anziani che vivono soli in casa senza più l'assistenza dei propri cari. Al lavoro l'Anteas per creare condizioni di aiuto e servizio alla terza età. Vediamo. L'età media in Molise continua ad alzarsi per effetto dell'invecchiamento della popolazione che risiede soprattutto nei piccoli centri di montagna. L'Anteas fa un appello al Governo nazionale di Roma per trovare le soluzioni di una vita dignitosa agli anziani di tutto il paese e risorse economiche per l'autosufficienza. In caso contrario il rischio isolamento diventerà per molti una certezza. È un'iniziativa importante. L'Anteas si prefigge di portare solidarietà in quelle comunità in cui c'è bisogno. Noi sappiamo che la terza età è quindi ovviamente una fase della nostra anzianità che ha una possibilità di poter essere aiutata. Quindi solidarietà, cultura, movimento, essere insieme e parlare con loro per ascoltarli, per sentirli, in momenti in cui l'isolamento porta le persone a stare in famiglia e voglio dire che questa iniziativa vuole essere proprio questo, trovare la soluzione, la possibilità di portare la nostra solidarietà in quelle famiglie in cui c'è bisogno di avere solidarietà e nello stesso tempo anche i servizi, i servizi sociali che sono impegnativi per alleviare la possibilità alle famiglie e aiutarle in un momento difficile in cui si possono trovare. Noi siamo per tutta l'età, ma noi abbiamo una fase della vita che ha le sue tappe, quindi ogni tappa della vita ha un suo percorso. Questo percorso è importantissimo perché si dice la terza età e quindi questa terza età noi vogliamo, come dire, alleviarla, dargli una possibilità di poter contribuire ad essere con queste persone. Parlavamo oggi, mi pare, che si diceva addirittura di oltre 100 anni e immagini come possiamo non dare solidarietà a queste persone che sono a casa e che probabilmente sono anche, come dire, non tutelate bene dalle famiglie perché hanno altre necessità di sopravvivenza e di provvedere alle loro esigenze. Quindi l'importante è stare insieme a queste persone, ascoltarle e sollevarle questa solitudine. Se noi ci battiamo per il sociale, perché si ingaprendi sulla sanità, sui servizi alla persona, non possiamo non pensare che questo governo, che comunque è stato scelto dal popolo italiano, non pensi a questa età della terza età e cioè alla solidarietà per gli anziani perché possono vivere una vita dignitosa, tranquilla, non chiedono di più, chiedono solo una vita dignitosa, tranquilla e che il governo pensi veramente di darci un contributo alla nona risufficienza. Noi pensiamo ancora oggi che a di là del livello regionale, a livello nazionale non abbiamo una legge sulla nona risufficienza, il che significa tutto. Quindi una sanità che deve essere rinvinquata e deve essere portata in un modo visibile. Maggiore attenzione ai tentativi di truffa nelle abitazioni. E questa è la raccomandazione che arriva dai carabinieri della Compagnia di Sernia nei giorni di festività natalizie. I carabinieri ricordano in particolare agli anziani che vivono soli in casa di prestare attenzione all'orquando ignoti, spacciandosi per familiari o rappresentanti di enti e autorità pubbliche, cercano di entrare in casa prima di aprire il necessario o contattare un familiare o il numero di emergenza. 112 è meglio un falso allarme che subire un furto. E questo è lo slogan della campagna di informazione. Passiamo ora agli appuntamenti ancora pochi giorni alla sede espositiva della Fondazione Molise Cultura a Campobasso per visitare la mostra Il Segno e il Colore in memoria del maestro e pittore molisano Amedeo Trivisonno. Vediamo. Il Segno e il Colore è la mostra allestita nelle sale espositive della Fondazione Molise Cultura dedicata interamente al maestro Amedeo Trivisonno, ai suoi bozzetti e ai disegni preparatori per gli affreschi presenti in numerose chiese, soprattutto del Molise, oltre ad opere pittoriche di gran pregio. L'allestimento è stato possibile attraverso una scelta tra le oltre mille acquisizioni attivate dalla regione Molise che ne ha dunque la proprietà, segnando così un patrimonio pubblico di gran rilievo culturale, artistico e perfino economico. La mostra è stata realizzata a cura di Muse Molise Spazi in Rete. È stato molto emozionante per noi dal primo momento in cui abbiamo aperto le cartelle e i rotoli che costituiscono il grande fondo che la regione Molise ha acquistato nel 2008 dalla famiglia. È stata un'emozione vedere dal vicino le opere di questo maestro dell'arte nella parte che per lui era veramente l'elemento più importante che è quello del disegno. Infatti all'interno della mostra sono esposti gli studi, i bozzetti, i cartoni preparatori, quindi tutta quella serie di opere che un artista realizza prima di arrivare alla creazione dell'opera finale all'interno delle chiese. Abbiamo scelto di raccontare in particolare i cicli molisani, quei cicli molisani che avevano una quantità più importante di opere raccolte. Ci sono opere relative a tantissimi paesi, quindi Oratino, Baranello, Sepino, Campobasso, Tante di Campobasso, San Giovanni Ingaldo e Castelpetroso. È stato un viaggio per noi molto emozionante. È stata veramente prima di tutto per noi e poi spero e mi auguro per i tanti visitatori che abbiamo avuto finora una scoperta di un grande artista alle cui opere noi siamo abituati perché frequentiamo normalmente questi luoghi di culto, però appunto la possibilità di vederle da vicino, di poterne cogliere alcuni particolari, di capire il complesso percorso che porta alla realizzazione di un'opera permette di accendere esattamente una luce su questo grande artista e poi di tornare al pubblico un'opera, un bene comune che noi abbiamo perché queste opere appartengono a tutta la regione mulise. L'esposizione è visitabile fino al 6 gennaio 2019 nei seguenti orari, da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con eccezione il venerdì e il sabato, quando la chiusura è posticipata alle 21. La domenica e i festivi è prevista l'apertura soltanto dalle 17 alle 21. Sono state organizzate però alcune aperture straordinarie, come quella odierna e quella di domenica 6 gennaio, quando l'ingresso alla mostra è dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Disponibilità anche per visite guidate. Il Consiglio Provinciale di Sernia torna a riunirsi domani nel Palazzo di Via Berta, nel pomeriggio sette punti all'ordine del giorno, tra questi la presa ad atto del completamento della superstrada Fresilia in direzione del viadotto di Sprondasino sulla Fondovalle Trigno. E torniamo alla sala della Fondazione Molise Cultura. In una sala appunto accanto alle opere di Amedeo Trivisonno si trova anche un omaggio al maestro Paolo Saverio Dizzinno, l'ideatore degli ingegni, le macchine utilizzate per i misteri. Un omaggio dovuto per i 300 anni dalla nascita del Dizzinno. Vediamo. Fianco a fianco, nella stessa sede, le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, due grandi nomi dell'arte della cultura molisana, di Campobasso per essere precisi, Amedeo Trivisonno e Paolo Saverio Dizzinno. La mostra, dedicata all'ideatore degli ingegni, le macchine dei misteri, che accolgono i figuranti e sfilano per la città nel giorno del Corpus Domini, si intitola La forma e il mistero, e si compone di poche, soltanto cinque in verità, preziose sculture che rappresentano altrettanti santi, statue giunte in prestito nel 300esimo della nascita dell'artista campobassano da numerose chiese molisane. Troviamo subito, alla destra del visitatore, la statua della Madonna addolorata, proveniente dalla chiesa di Campolieto, dedicata a San Michele Arcangelo. Subito dopo, l'Immacolata Concezione, forse la prima scultura del Maestro, datata 1742, esposta nella chiesa di San Bartolomeo a Campobasso, la chiesa dove fu battezzato il Dizzinno. Seguendo il corso della visita, si incontra San Vincenzo Ferrer, della chiesa di Santa Maria della Libera di Cerce Maggiore. Poi un altro incontro con San Matteo Apostolo ed Evangelista della chiesa di San Giovanni Battista e Gesù di Campobasso. Ed infine la scultura di San Francesco Saverio, proveniente dalla chiesa di San Martino Vescovo, situata a Campo di Pietra. Una mostra assolutamente da visitare, dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Una notizia di politica. I giovani democratici hanno deciso di intitolare il circolo termolese dell'organizzazione Ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ferito a morte durante l'attentato terroristico che si è verificato a Strasburgo lo scorso 11 dicembre. E' a lui che l'organizzazione giovanile del Partito Democratico ha scelto di dedicare l'attività politica perché i suoi sogni e i suoi ideali hanno dichiarato i giovani democratici possano trovare nuova linfa e continuare a camminare su gambe forti tra le strade dell'Europa. Un gesto ignobile, così la parrocchia della chiesa di San Leonardo a Campobasso ha definito il gesto vigliacco, possiamo definirlo compiuto nella notte da un gruppo di vandali che hanno sfregiato la statua del Gesù Bambino presente nel presepe della Natività che si trova proprio davanti alla chiesa situata nel centro storico della città, Capoluogo. E piovono riconoscimenti per il cortometraggio realizzato dagli studenti e docenti del liceo Dovidio di Larino in collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il progetto è frutto di un percorso di alternanza scuola-lavoro che ha consentito agli allievi di sviluppare capacità comunicative sui temi della prevenzione e della promozione dei corretti stili di vita. Vediamo. Tutto parte da te è il titolo del cortometraggio realizzato dagli studenti del liceo Dovidio di Larino sotto la sapiente guida dei loro docenti e degli operatori del centro Lilti Campobasso nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro, pluripremiato in diverse manifestazioni che si sono svolte nel corso dell'anno sul territorio regionale. Dopo aver guadagnato due primi premi durante l'ultima edizione del Molise Cinema Film Festival a Casa Calenda, il liceo frentano si è classificato terzo nella categoria licei del Molise all'interno del seminario Camera Orienta organizzato dalla Camera di Commercio del Molise. Per il percorso di alternanza realizzato in collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori divertendosi e utilizzando gli strumenti tecnologici a loro congeniali giovani attori e registi hanno creato un video di grande impatto comunicativo che parla ai ragazzi in maniera immediata ed efficace. È stata un'esperienza fantastica che mi ha dato davvero tanto mi ha fatto maturare a livello morale e che ha davvero fatto capire quello che è l'importanza di tenersi stretta la vita, quindi attraverso dei piccoli e semplici passaggi che sono davvero fondamentali, quindi il rispetto di se stessi, del proprio corpo attraverso stili di vita giusti. Noi siamo una scuola che punta a percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità. Siamo una piccola realtà ma con grandissimi progetti di qualità e questo della Lilt è proprio un progetto di elevata qualità perché vogliamo diventare una scuola che promuove la salute, vogliamo diventare una scuola che investe sulla salute e che crede nella salute affinché diventi davvero una competenza acquisita di tutti i ragazzi. L'idea è quella di diventare un modello e di essere davvero un fanalino per tutti i ragazzi del territorio affinché appunto la scuola non sia soltanto un posto dove si eroga un servizio di educazione e di istruzione ma diventi altro, diventi una scuola che promuove salute, una scuola vicina ai ragazzi dove i ragazzi imparano ad essere cittadini migliori per loro stessi e per la collettività. Già da qualche anno l'Istituto di Larino è tra i suoi fiori all'occhiello l'adesione al progetto Guadagnare Salute con la Lilt promosso dal Centro Luoghi di Prevenzione che ha sede nell'ospedale di Larino. Nell'ambito di questa collaborazione sono stati realizzati diversi percorsi di alternanza scuola-lavoro, e numerose attività laboratoriali finalizzate a sviluppare negli alunni comportamenti e stili di vita salutari. Un modello di alternanza che basandosi sul coinvolgimento attivo degli studenti che diventano promotori di life skills verso gli altri, li rende maturi, sensibili e soprattutto consapevoli. A Campobasso si è rinnovato il tradizionale pranzo di Natale alla Casa degli Angeli, dove un gruppo di volontari ha preparato il pasto per circa 40 ospiti. Volontari che non esitano a dedicare il proprio tempo a favore degli ultimi e che hanno deciso di trascorrere un Natale all'insegna appunto della solidarietà e della condivisione anche dei legami affettivi, quei legami appunto nei confronti di chi vive solo senza un nucleo familiare o addirittura, molto spesso, senza neppure una casa. Il genio è la creatività del pittore molisano Paolo Gamba, originario di Ripa Bottoni in un grande affresco che rappresenta l'assunzione di Maria Vergine che si trova nella chiesa di San Francesco a Larino. L'opera realizzata nel 1747 e delle altre di Rilievo ne parla in questa intervista Giuseppe Mammarella, responsabile dell'archivio storico diocesano di Termoli Larino. Vediamo. Ciò che balza subito agli occhi, venendo qui, quindi all'interno di questo monumento religioso, è un affresco che si trova proprio, ecco, sulla cupola possiamo definirla, di questa chiesa, un affresco di Paolo Gamba. Sì, questo affresco è stato realizzato dal noto pittore molisano di Ripa Bottoni, Paolo Gamba, nel 1747 ed è una delle opere maggiori di questo artista nostro corregionale. Qual è il significato che sta dietro questo affresco? L'affresco raffigura la gloria del paradiso, cioè l'assunzione, cioè la Madonna Assunta, a cui è dedicata anche la nostra stupenda cattedrale, attorniata da Angeli e Santi e ai quattro lati, nei quattro pennacchi, ci sono raffigurati i quattro evangelisti. All'interno di questa chiesa ci sono anche altre opere. Lei ha parlato dell'organo come uno dei più importanti della regione Molise. Sì, l'organo è uno dei più antichi e più belli della regione Molise, perfettamente funzionante ed è un organo realizzato nella seconda metà del Seicento. Poi ci sono statue di particolare pregio, tra cui l'immacolata concezione del noto artista Giacomo Colombo, attivo in tutta Europa tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. Dietro questa chiesa c'è anche un mistero, lo chiamiamo mistero ma c'è proprio un documento storico che attesta che qui è stato sepolto il Duca Francesco Carafa, è così? Sì, il Duca Francesco Carafa, morto in seguito ad un agguato nel 1679, è stato sepolto in questa chiesa. C'è l'atto di morte, ci sono altri documenti che attestano questa sepoltura. Però purtroppo in seguito agli ultimi lavori di restauro, i resti mortali di questo Duca Francesco Carafa non sono riemersi. Però c'è la sepoltura, c'è la tomba praticamente. Possiamo in definitiva considerare questo monumento religioso come uno dei più importanti che ci sono in Molise? Senza alcun dubbio, nel 1929, questo edificio è stato dichiarato dal competente ministero, ovviamente, monumento di interesse nazionale. Quindi è un monumento nazionale insieme alla cattedrale che ha ottenuto questo riconoscimento già negli anni 80 dell'Ottocento. L'amministrazione comunale di Ripalimosani conferirà la cittadinanza onoraria a Maurizio Mastrangelo e Marco Gian Antonio, i due imprenditori residenti in Irlanda che di recente hanno ricevuto il titolo di Cavalieri dell'Ordine della Stella d'Italia per il lavoro svolto nel paese Sassone con la loro azienda che opera nel settore alimentare e turistico. La cerimonia si terrà venerdì 28 alle 18.30 nella sala consigliare del comune di Ripalimosani. E torna questa sera il suggestivo spettacolo Magia di Luci nel borgo medievale di Larino, la manifestazione organizzata dall'Associazione Larino nel quale si svolgerà in concomitanza con il presepe vivente per facilitare l'accesso di visitatori nel centro storico. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio navetta gratuito che partirà dalle ore 17 fino alle 22.30 di oggi. E 35esima edizione del presepe vivente a Montenero di Bisaccia, seconda serata oggi alle Grotte Arenarie, ai piedi del paese. La Sacra Rappresentazione tornerà anche sabato 29, domenica 30 dicembre, infine il 5 e il 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 20. E ora è il momento di vedere insieme le previsioni del tempo. Bel tempo oggi su tutto il Molise, cielo privo di nubi fino a sera, le temperature sono previste tra i 2 gradi di Campobasso e la massima di 11 a Termoli, ventilazione nord-occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale, tornerà il sole domattina sulla regione, valori climatici, nieve rialzo, i venti ruoteranno settentrionali. Siamo ora alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio, dal calcio di serie D e dal Campobasso, che al giro di Boa vira 21 punti in 19 partite, un risultato non soddisfacente, ma per società tecnico e giocatori, il girone di ritorno sarà il girone della svolta, vediamo. Nell'ultima partita del 2018, il Campobasso di Massimo Bagatti ha trovato molte difficoltà a creare occasioni e superare il Montegiorgio. Lo 0-0 sintetizza la giornata poco positiva dei rosso-blu molisani, penalizzati anche da un terreno di gioco pessimo. Con Leto, Ranelli e Salvatori, gli ultimi arrivati, i Lupi dovrebbero avere una marcia in più nel girone di ritorno. Noi abbiamo giocato non bene tecnicamente e abbiamo creato poco, anche se due o tre occasioni le abbiamo avute, però abbiamo creato tecnicamente e potevamo giocare meglio. Abbiamo affrontato una squadra che negli ultimi, penso, due mesi ha perso una partita, che ha battuto 2-0 al Canattese, che è una squadra compatta, che ha fatto bene l'anno scorso, con giocatori bravi. Io sono soddisfatto della prestazione, non completamente, perché, ripeto, tecnicamente potevamo giocare meglio. L'aspettativa è di vincere 19 partite in gioco di ritorno, però probabilmente non ci riusciremo, però il bilancio sì è positivo. Io non cerco mai scuse, quindi non mi interessa. Sicuramente, paradossalmente, questo evento ha asciugato un po' il campo e poi, se avete visto, la palla, quindi giocare tecnicamente era un po' più difficile e si perdeva sempre un tempo di gioco e si ritardava un po' di giocare bene subito palla avanti. Il gioco era troppo lento per poter fare male a una squadra di giocatori esperti che si difendevano con tanti uomini. Poi, alla fine, due o tre pari l'abbiamo avuta. Mi sembra ricordare quella di Alessandro che ha avuto troppe idee, forse, perché stoppava di petto e appoggiava la palla in porta. Anche con gli altri, mi sembra che alla fine di lavoro è uguale. Cioè, qualcosa abbiamo creato lasciando perdere anche il rigore. Non abbiamo concesso niente. Magari i punti abbiamo vinto, ma i punti non me ne frega niente perché quello che conta è fare un colpo degli altri. Il Leto è un giocatore che può giocare, secondo me, più che mezz'ala trequartista. Un giocatore che, onestamente, è arrivato tre giorni fa e da tanto che non giocava, non è ancora in condizione. Magari ho pensato che non ci poteva dare grande mano oggi, ma ce la darà sicuramente nel corso della stagione. Parliamo ora di calcio a 5 nel campionato nazionale Under-19. Il Cus Molise abbatte con un perentorio 7-2 il futsal parete. Notevole la differenza tecnica tra le due formazioni per i ragazzi del Cus. È stata questa l'ultima vittoria del 2018. E ora il rugby successo sportivo al vecchio Romagnoli di Campobasso per il torneo natalizio interregionale organizzato dagli Ammers. Gli atleti rosso-blu si sono uniti, i giovani rugbysti dei Draghi Telese, per una manifestazione che si è svolta all'insegno della goliardia e del divertimento e alla quale hanno partecipato anche le famiglie degli atleti in campo. E con questa notizia si chiude l'edizione del nostro telegiornale. io vi ringrazio per essere stati come sempre anche nel giorno di Santo Stefano in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.